Aspetta, c'è uno spawner di... A mezzo qua! Ah, io ho... Non ci ho visto dove c'è. Ho leggermente sentito un'esplosione e ho visto due... Ho visto il cuore! Sembra tanto il primo dungeon quello per arrivare alla prima intersezione. Sì, ma... C'è se cosa ci fai qua, aspetta che ti voglio lo zombie. Eh, ho un cuo. Una buona salita, troppo. E' un bagno quello? Ok, benvenuti ragazzi, io sono Ghisis e io sono Alex. E io sono Cece. Io sono... Ma sei cedo! C'è la tua roba! Perché... Cosa? Io non ho fatto niente, non guardo nemmeno. E oggi continuiamo con Darker Appalenti! L'ultima volta abbiamo fatto Darker Appalenti, ma è che io ascolterò Ale in vita mia. E io ho portato a casa la lana! Sì, allora, spieghiamo bene come sono... Ale, ma come hai fatto a fare così tante cose? Siamo morti! Solo in mezzo. Io sono morto verso tutto l'equipaggiamento che avevo, perché qualcuno non l'ha lasciato tutto il tempo. E io ho portato a casa la lana! E oggi si fa questo dungeon qua, perché lo decido? Allora... Oh, cazzo, cosa è questo? Oh mio, no, 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 torce, 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 tutta la vita torce. Ma dove sei andato adesso? Nel dungeon, torce. Siamo in quello arancione. Beh, quello arancione. Ma che schifo! Torce, torciate. Avevo detto l'altro. Non so come faccio. Questo qua è quello della sabbia. Eh, torciate. Che schifo. Era il primo da fare, l'arancione è la prima che si fa. Beh, quello che abbiamo fatto prima era l'ultimo, prima dove c'era l'intersezione. Sì, perché Ale ha detto, facciamo così, così abbiamo ucciso, torce. L'abbiamo messo in voto, abbiamo deciso di sci, poi siamo morti. No, ringrazio Squid di avermi ucciso. Prego, prego di niente. Anzi, oh, ho trovato un evil. Eh, come ce l'abbiamo già? Eh, col piccone di... Oh, ho trovato... Aspetta, provo col piccone di... Sono lo spawner. Oh, ho un anvil, ho un anvil. Vai, esplodi. Sono lo spawner di creeper. Eh, lo mi sono fatto. Sì, vieni nella casa stima vicino, appena entri. Ecco, ho preso l'anvil, la porto a casa. Ma ce l'abbiamo già? Quella che abbiamo a casa è il bear, bomb, è dead. Io porto a casa sta roba se vuoi. Vai, vai, rompi, 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 rom c'è incantata è appena presa dove dove nella cesta adesso porta cosa roba facciamo avanti e indietro peggio aspetta c'è un sparo dietro no non sono io allora libro incantato con protezione ma io ho uno zombie non ho un creeper ci sono anche creeper me li sto pagando tutti io per evitare che ti lo spaccino il culo perchè io ho fatto un episodio a rimontarti mi serve il cibo sono leggermente impegnato scusa sono qua sono qua sono qua aio ho visto dove ho leggermente sentito l'esplosione e ho visto due aiuto 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 è uno spawner di creeper tu non rushi poi c'avevi uno spawner di creeper di parte scusa un attimo oh lo sto distruggendo lo spawner di creeper passa passa c'è un creeper dietro mi sa c'è un creeper di spawner vai passa le carote tu lo passate c'è un creeper di spawner un creeper di spawner oh what scudi sembra tanto il primo dungeon quello per arrivare alla prima intersezione si ma penso che cosa ci fai qua aspetta che ti tolgo lo zombie eh ho un quo chi è che non ha tolto uno spawner qua in parte perchè evidentemente c'è uno spawner perchè mi ha spawnato un creeper in faccia evidentemente ma è una tua illusione c'è un cibo 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 ho 13 carote se per me da me le tue dai e mentre c'è un creeper ti vuoi le carote ancora? si sono dove sei? qui grazie che stress che c'è oh oh spawner di creeper tutto ho detto prima farmiamo le cose ragazzi non mi ha ascoltato nessuno ma io veramente avevo il cibo qualcuno mi ha avvisato nella lava no non ci credo ho buttato la pozione di rigenerazione sullo zombie fa danno lo zombie si fa danno lo zombie però avrei ah no ce l'ho io no scherzo l'ho presa io e ho ammazzato la strega come hai fatto a ammazzare la strega? sto arrivando sto arrivando con 64 torce non è acqua quella che c'è giù in basso non è vuoto cos'è che c'hai qua? qua secondo me c'è un coso di creeper no cazzo bene finita di guardare un buono si poi vieni qua vieni qua dove? vengo si senti ho visto sto arrivando si c'è un coso di creeper si c'è un coso di creeper non sono morto vero? no no però li hai fatti saltare in aria tutti eh? posto lo spawner si è caduto in un posto alto ero dove ero io hai distrutto quello spawner? si ha distrutto lo spawner ok mi sono salvati in una maniera che era poco fantastica come potessi che non dirò scula no 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 simo riprendi la roba e è vicino dove è eh ho visto ho visto ho sentito l'esplosione quindi so che sei vicino ho sentito l'esplosione ecco ale ale tu sai ancora dove eravamo prima? no io sono nella casetta dove eravamo prima? dove eravamo prima? dove eravamo prima? Prendimi le robe Ok Ma non c'è niente Ok ho sbagliato dungeon Fai una cosa vedi con me a casa Perché abbiamo bisogno di torce Ho un casino di robe Tieni la tua roba Qui c'è un creeper Boom Cooperazione Guarda io impiacci le carote Le rompo e tu bombillizzi Sì qual'è il problema Ragazzi sono andato avanti Ma non mi sono accorto perché mentre non vi sentivo Però sbaglio pensavo fosse Sono andato sopra 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 ci sono già stati Sopra ci sono le torci che abbiamo messo io e Simo No sopra sopra C'è un ponte a un certo punto Eh cosa ti devo dire Cosa ti devo dire Che sono quasi morto Dove sei tu Sono quasi morto Sono andato a sinistra Vabbè scialla Come scialla No scialla niente Come scialla l'oro ma gliela rifai te poi Ragazzi Vi vedete? No dove sei? Oh mio dio che vuole che ha fatto quel raglio Ma c'è un fortino di schermo Vedo l'acqua sotto di me Vedo l'acqua sotto di me Buttati nell'acqua Non ci riesco È troppo lontana Guardate che arrivo Non bisogna andare di lì No Lo assicuro Cosa? Cos'hai? Mi è cosa? Mi è caduta la samba Guarda Si è fatto un cratere E dove sono? Ragazzi sono caduto giù io Seguitemi No lì si ritornano su Eh torniamo su E noi dobbiamo tornare su Ah vuoi tornare su? Eh vedi qualcosa? Boh a meno che ci sia qualcosa qua Ci siamo inseguiti dai creeper tra parentesi Mi provo la mia ispezione Ale stanno spawnando creeper in parte a te Vedo un nome Ed è quello di Squid Eh io sono giù Adesso arrivo a darvi una mano Eh si ma aspettami un attimo che vengo su No non c'è niente qua davvero E te l'ho detto che non c'è niente? È solo per trollarti perché sei caduto Vabbè torno su Eh il creeper Ah ciao ti vedo Aspetta Dov'è che siete? Datemi una indicazione geologica Aspetta C'è uno zombie con una spada di ferro Wow Si ma è presente dove siamo andati? Si Che abbiamo torciato Si Ecco di lì c'è un percorso per salire Ah si certo certo Quello No zombie Perché cadiamo? Per Cos'è che era per rialzare? No perché siamo caduti Ho trovato della roba Ah è vero Perché cadiamo? Per 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 poterci rialzare più forte C'è cià che c'è cià Quella roba lì Che che l'avevi a destra C'è ciè vivi? Incredibile Vai Cice vieni vieni Aspetta sto arrivando anch'io Ma avete ritrovato la mia roba? E non so dove sei Dove sei morto Ho trovato la cesta più bella del mondo Dov'è che dobbiamo andare? Di qua Aspettatemi! Aspettate anche me Cos'è? Cos'è sta cosa? Mamma che fastidio Un creeper! Scusa Simo! Ma se mi fai cadere Simo? No sei caduto da un posto alto, io non c'entro niente Non c'è scritto Nel tentativo di prendere il creeper Nella chat se leggi non c'è scritto E' stato costretto a cadere da E' morto Che sta esplodendo Dov'è che è lo spawner? Non c'è più E' il pianiale secondo me lo spawner Non fare i pillar Mi sto distruggendo da questo Bene E' morto per un creeper Molto interessante Cos'è successo? Ecco Avevo fatto un pillar C'è l'unico blocco in cui non doveva cadere E' caduto un creeper ed esplose Si perchè? E' vabbè ma io non so dove cazzo è la mia roba Sono caduto da qualche parte Ditemi dove c'è Si perchè? Perché c'è uno spawner in cima e creeper cadono E' ci cadono in faccia Ho trovato, ho trovato la mia roba Bella Ehm Penso che aspetterò Simo Oh vedo un tizio che gira qua E' sono giù io Ehm Sono giù a prendere la mia roba perchè poi il primo ha fatto cadere Eh scusa Sono in fondo alla mappa ma la lana non c'è proprio Ma non devi andare in fondo alla mappa Ma non devi andare in fondo alla mappa Ma no Dov'è? Devi andare sopra Sopra cosa? Non vedi quando entri nel Tu quando entri nel dungeon vedi subito un ponte davanti a te Sopra il tutto E devi andare lì Sopra No in parte guarda di fianco Coprimi poi un attimo le spalle perchè non esiste Ma dimmi Dato che si Dalle case Si c'è io per esempio Il cece per esempio ho trovato una No non dalle case Una buona salita trovo E' un bug quello? Così Perchè il Jesus è stato ucciso No perchè mi è Non capivo se è un creeper E' un bug oppure ero un creeper 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 Non riesco a logare Non riesco a logare Si ha messo la gun tantissimo Anche a me Anche a me Il Jesus è stato ucciso Porca puttana perchè non riuscivo a entrare Non è giusto Non è giusto